ciao ragazzi io sono nico di ne sono ritornato con un nuovo video oggi è giovedì ragazzi quindi abbiamo i premi della weekend league division rivals tanti pacchetti da aprire mi raccomando lasciate un mi piace attivate la campanella e iscrivetevi al canale per stare sempre vicino a me vediamo se riusciamo ad arrivare a 110 iscritti oro 2 anche questa settimana dei pacchetti mega ma la squadra della settimana qual è che non ho visto manco vediamo la squadra della settimana non è un gran chiede dai abbiamo chiellini soshek Kimmich 92 poi abbiamo Dembélé Pierre Aubameyang e Davis non è un gran chiede però dai almeno 2.85 1.85 1.84 andiamo a riscattare anche i premi delle rivals non so che prendere opzione 2 un pacchetto mega 1 misti 1 maxi ma guarda prendiamo questo dai almeno abbiamo qualche pacchettino da oprire più di no 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 vado a coso vado riscattare il coso che se no di no mi dimentico di registrarmi e non va bene allora noi siamo pronti con i pacchettini abbiamo due pic vediamo qua dentro che cosa sarà trovabile un c o c che portiere ne ho tanti dai qualcosa di 85 più 84 kudus ok 81 e 84 ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta abbiamo 16 pacchetti ragazzi quindi mi raccomando ha iniziamo con il primo questo scriviamo già subito perché non ne manco il raro due giocatori due giocatori e questo sopra ok 15 questo manco oh ma la fortuna dove sta eh oh bandierina qui attenzione spagna terzino sinistro iuri 83 c'erano 84 almeno 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 però va bene anche così ora normale manco per l'anima manco 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 e poi è colpa mia che io dico no ma non li li prendo più questi non scambiabili no li prendo ancora e poi ancora no no ora normale almeno abbiamo salvato 3 su 4 ci sta però voglio vedere quelle carte belle ma ancora credo più la maron che bella cosa così mi piace così sì che mi piace signore oro maxi nato dai fammi vedere qualcosa almeno oro raro almeno cucurella che questo ce l'ho già mi sembra mi sembra non lo so se infatti spero sia scambiabile no salviamo gutrone stvg 9 pacchetti oro premium maxi forza forza no manco bandierina mannaccia 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 almeno tutti scambiabili vai madame sta bandierina madonna mia promise 32 ok ci sta dai 80 muchiele tantissimi giocatori ok bellissimo ok mo ci rimangono 7 pacchettini quasi tutti buoni eh qui non si può sbagliare iniziamo con iniziamo con questi mister prime non mi hanno fatto vedere niente fino adesso manco di adesso e poi vabbè mister prime schultz addirittura un altro misti prime vediamo se cambia la situazione ma non penso no infatti manco bandierina di nuovo che cos'è if no libertadores sud america bilalba poi sotto matti ok almeno due giocatori 80 queste si va sopra e mo ci sono rimasti i pacchettini mega che sono 4 e questo pacchettino oro rari vediamo ah per un attimo ho detto nuovo walk out no mi sa che non lo troviamo stasettimana noi il walk out no 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 non si trova il walk out allora se non lo troviamo qui ragazzi io non so più che fa iniziamo con questo 4 pacchetti mega 100k no walk out gales portiere del crystal palace if ah buono 81 n6 dimmi che mi prendo 20k per questo ah 19 17 17 ok ci sta ci sta ci sta 81 81 81 82 ok questo sopra questo sopra giù almeno mi prendo 17k pacchetto pacchetto 100k numero 2 nuovo bandierina spagna c o c del real madrid chi sarà disco 84 84 e droppano questi scambiabili caspita se non droppano ma vediamo quelli non scambiabili che cosa ci droppano 100k numero 3 bandierina if l'intera att clark 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 harris e giorginio o bello giorgi bello giorgi 6 doppioni 5.000 credit addirittura visca dimmi che scambia no annaccia madonna mia a parte visca tutti scambiabili questo è un win per me è win non lo so per voi ragazzi ma per me è win e l'ultimo vediamo se ci riusciamo a trovare un walkout questa settimana non è walkout manco bandierina va bene libertadores ci può stare di tutto sotto un bapè per ide no miranda ma no edin jacko non c'è l'amacusca eh vabbè e vabbè e non va bene perché non abbiamo trovato niente questa settimana ragazzi però chissà chi lo sa io comunque vi ringrazio per aver guardato anche questo video vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo con un prossimo ciao belli l'amacusca non c'è l'amacusca non c'è l'amacusca Grazie a tutti.